Oggi per noi di Ruminanza è una giornata molto importante perché abbiamo l'onore di scambiare due considerazioni, due riflessioni con Birma Anna, lo presento per quei pochi che non lo conoscono, noi l'abbiamo conosciuto, io l'ho conosciuto tanti anni fa perché ho letto il suo libro sugli insilati, il suo libro sugli insilati è una pietra miliare nella conoscenza della nutrizione dei ruminanti e poi via via ha contribuito con degli articoli molto interessanti sulla rubrica di Pioneer, nozioni di agronomia di ruminanzia e oggi volevamo, in accordo con Pioneer, scambiare alcune considerazioni con lui che è un nutrizionista, è un nutrizionista di ruminanti, quindi di bovine da latte maggiormente, Bill non è un agronomo quindi si occupa di nutrizione, su alcuni aspetti che sono di tutti i giorni, della nostra quotidianità. La prima cosa che ti volevo chiedere Bill, grazie della tua disponibilità, quale sono il trend globale, cioè il mercato e il settore della produzione del latte bovino nel mondo, come lo vedi? Quali novità ci sono? Grazie, è un onore essere intervistato da te, sono un grande stimatore di tutta l'attività di formazione che hai fatto per gli allevatori italiani, quindi grazie. Quello che vedo è una consolidazione dell'industria lattiero casearia, gli ultimi dati che abbiamo negli Stati Uniti vanno dal 2017 al 2022, mostrano che abbiamo ridotto il numero di aziende agricole del 40%, ma il numero di vacche è rimasto esattamente lo stesso, quindi abbiamo aziende zootecniche da latte molto più grandi. Durante questo viaggio in Italia sono stato in tre diverse aziende lattiero casearie che alimentano oltre 500 vacche, una con 1600 vacche e una che arriverà a 1000, quindi penso che la stessa cosa stia accadendo in Italia. Sappiamo anche che negli Stati Uniti due terzi di tutto il latte è prodotto da mandrie con oltre 1000 vacche, quindi un vero consolidamento. Penso che il problema per l'industria lattiero casearia sia la compressione dei margini. Stiamo lavorando con margini molto sottili e la soluzione è espandersi e diventare più grandi. Se hai un piccolo margine hai bisogno di più unità per fare lo stesso profitto. Il nostro problema, lo vedo un po' in tutto il mondo e ne ho parlato anche con degli allevatori qui in Italia, è trovare mano d'opera, soprattutto mano d'opera qualificata. Inoltre, forse più da noi che in Italia, c'è la volatilità dei prezzi. Imparare a gestire gli alti e bassi del prezzo del latte è fondamentale. Il nostro governo non è più così coinvolto nella determinazione dei prezzi del latte. Perciò dobbiamo prendere polizze assicurative per coprire questo aspetto. Infine, e questo riguarda te e me, i costi dei mangimi sono circa la metà del costo di produzione del latte. Nella mia esperienza, lavorare con agronomi e aziende sementiere può aiutare a fornire foraggi di buona qualità, riducendo così i costi dei mangimi acquistati. Le condizioni climatiche sono un po' diverse, si stanno modificando. Abbiamo dei lunghi periodi in Europa di siccità, dei periodi in cui ci sono queste piogge estreme. Per cui la gestione delle coltivazioni sta cambiando, anche la logica di come si gestiscono l'acqua, di come si gestisce l'irrigazione, ma anche la scelta delle coltivar migliori da mettere. Come vedi questa situazione? Cosa ci potresti suggerire per affrontare questo clima un po' strano e almeno per noi ignoto con quello che saranno poi invece le esigenze degli allevatori di nutrire degli animali. Soffriamo gli stessi cambiamenti climatici in Nord America come in Italia, dalle siccità alle condizioni molto umide. Quest'anno abbiamo condizioni molto umide nel Midwest, proprio come in Italia. Stiamo iniziando ad analizzare e a capire come questo influisca non solo sulla resa, ma anche sulla digeribilità. Ad esempio, quest'anno sappiamo che quando abbiamo un eccesso di acqua durante la crescita vegetativa della pianta, le piante tendono a crescere un po' più alte, ma la digeribilità della fibra sarà inferiore. L'altro estremo è la siccità, in cui le piante hanno internodi più corti, ma la digeribilità della fibra risulterà più alta. Abbiamo diverse strategie che possiamo adottare a seconda delle condizioni della pianta. Per esempio, da un punto di vista di trattamento microbiologico, potremo utilizzare diverse soluzioni. Se è un'annata secca, avremo una raccomandazione diversa rispetto a un'annata umida, perché sappiamo che la digeribilità della fibra sarà più bassa. Abbiamo fatto molte ricerche in passato e sappiamo che in un'annata umida, quando la digeribilità della fibra è bassa, possiamo usare determinati additivi e trinciare un po' più in alto, perché gli internodi inferiori sono meno digeribili. A proposito di questo, stiamo anche lanciando un nuovo additivo microbiologico per gestire la variabilità dei foraggi dovuta ai cambiamenti climatici. Da molti anni abbiamo ibridi di mais chiamati Aquamax, sviluppati per crescere e produrre in condizioni di bassa disponibilità idrica. Quindi sappiamo che questa variabilità climatica continuerà ad essere presente e stiamo sviluppando soluzioni per gestirla. Anche le tecnologie analitiche di laboratorio stanno progredendo, permettendoci di correlare le condizioni di crescita non solo alla resa, ma i laboratori più sofisticati possono valutare anche la digeribilità e disponibilità dei nutrienti in queste condizioni così variabili. Bill, alla luce di quanto hai detto, quali sono i nutrienti che secondo te dobbiamo analizzare con attenzione di un foraggio per valutarne la qualità e soprattutto per poterlo adattare a una dieta per le bovine da latte? Siamo andati ormai oltre il concetto di quantità dei nutrienti per concentrarci sul concetto di disponibilità. Abbiamo parlato di digeribilità della fibra e per molti anni abbiamo usato i valori di digeribilità dell'NDF a 30 ore, che erano un buon inizio. Ma nei programmi di bilanciamento delle razioni più sofisticati come NDS, che usate anche in Italia, è più importante il valore KD, il tasso di digestione, non solo un singolo punto temporale, ma l'intera curva di digestione. Dobbiamo quindi passare ai tassi di digestione, non solo della fibra, ma anche dell'amido. Questa mattina in una stalla abbiamo discusso della processazione delle cariossidi del mais. Il silomais era trinciato perfettamente, ma molte cariossidi erano ancora intere. Quando quel campione va in laboratorio, viene macinato e analizzato per la quantità e la digeribilità dell'amido nel rumine. Tuttavia, quel numero deve essere combinato con le osservazioni fatte in azienda. Se la granella nel silomais è ancora integra, non rifletterebbe la vera disponibilità per l'animale. Quindi deve esserci un equilibrio tra analisi di laboratorio e realtà sul campo. Anche l'appetibilità, l'odore e il profilo degli acidi grassi volatili del silomais sono parametri estremamente importanti per incoraggiare l'ingestione da parte degli animali. La tradizionale proteina grezza, il contenuto in fibra e amido, i livelli di zuccheri, gli acidi grassi volatili. Oggi disponiamo di molte informazioni, ma a volte mi chiedo se passiamo troppo tempo davanti al computer a bilanciare le diete e non abbastanza a camminare tra le vacche, osservando cosa mangiano e il letame prodotto. Professionisti della vecchia guardia, come te e me, sanno che dobbiamo fare entrambe le cose. In questi giorni si stanno in Italia, si sta pensando ai piani culturali, questi giorni qui. Ci sono delle zone in Italia dove è più facile irrigare e delle zone dove è più difficile irrigare. Quindi c'è la questione anche, abbandono la coltivazione del mais per insilarlo e lo sostituisco con la coltivazione per fare insilati di cereali autunno-vernini. Tu pensi che un insilato di cereali autunno-vernini possa in qualche modo competere con l'insilato di mais? Abbiamo pochissimi cereali autunno-vernini insilati in Nord America, quindi la mia osservazione si basa sull'erba medica. Abbiamo visto un costante calo nelle superfici in Nord America. Lasciami citare alcune statistiche. Dal 1960 al 2018 la percentuale di superfici coltivate a medica è diminuita del 40%, mentre la resa è aumentata solo del 19%. Se guardiamo al silo mais, le superfici sono diminuite del 12%, ma la produttività è aumentata del 71%. Quindi, se consideriamo l'efficienza di uso del suolo, ha ancora senso utilizzare molto il silo mais perché possiamo ottenere molta biomassa, ma abbiamo anche amido. Inoltre, in allevamenti, grandi allevamenti, il silo mais consente di utilizzare e gestire il letame per la nutrizione azotata delle piante di mais. Quindi, negli Stati Uniti, la tendenza è quella di una maggiore inclusione del silo mais nelle diete rispetto alla medica. Mi hai chiesto se i cereali vernini come il triticale o i frumenti possono essere buoni foraggi? Assolutamente sì e dal punto di vista agronomico possono essere preziosi per la rotazione delle colture, specialmente in zone geografiche, collinari o a rischio di erosione e in cui dobbiamo gestire la rotazione delle colture. Tuttavia, non penso che i cereali potranno mai sostituire il silo mais, principalmente a causa dell'amido e della maggiore uniformità nella digeribilità della fibra. In alcune zone con poca acqua, come in Texas e New Mexico, gli allevatori hanno provato a seminare sorgo da foraggio e altre colture che richiedono meno acqua, ma non riescono a ottenere la stessa produttività dagli animali come con il silo mais. Quindi penso che almeno in Nord America il silo mais continuerà a essere predominante. A volte dobbiamo rassegnarci a convivere con l'ambiente culturale che abbiamo, ma non credo che in Nord America vedremo mai scendere il silo mais, crescerà. Oggi molte stalle utilizzano dal 70 all'80% di silo mais nei foraggi. Il resto può essere medica, triticale o frumento. Però pensa alla produttività di queste vacche oggi, 43, 44, 45 kg al giorno. È una produttività tremenda. Non sarebbero in grado di sostenere questo ritmo se non avessero un buon apporto di amido nella dieta. Ok per il continuare a coltivare il mais. Secondo te, in Italia ci sono, tu la conosci, ci sei venuto più volte, ci sono diversi modi di gestire l'acqua per irrigare. Ci sono i sistemi per scorrimento, quindi per allagamento dei campi, ci sono i sistemi per aspersione. Quella che non si è mai sviluppata in Italia o poco sviluppata è la microirrigazione. Tu pensi che ci dobbiamo concentrare sulla microirrigazione per la gestione di risorse idriche più limitate? Oppure dobbiamo continuare così a gestire l'irrigazione? Ci puoi dare qualche consiglio, puoi dare qualche consiglio su quale può essere una migliore gestione dell'irrigazione per disperdere meno acqua nell'ambiente? Vorrei rispondere, ma sono un nutrizionista, tu sei un veterinario, abbiamo le nostre aree di competenza e non sono esperto in irrigazione. Per questo motivo Pioneer cerca di avere nutrizionisti, agronomi e genetisti. Devo quindi riferire la domanda ai nostri agronomi perché sicuramente sono più competenti in materia, però conosco le condizioni di crescita che avete avuto quest'anno in Italia, con molte precipitazioni. Nelle zone irrigue del Nord America la digeribilità della fibra è sempre inferiore a quella delle zone in asciutta, a meno che non ci sia stata molta pioggia. Sono più interessato all'impatto dei diversi livelli di umidità, ma in termini di tipologia di sistemi irrigui non posso dire quale stile sia il migliore. Una volta ho commesso l'errore di provare a fornire informazioni sull'irrigazione a un agricoltore e l'agronomo Pioneer ha detto ironicamente, ei Bill, non farlo più, perché la mia idea era che se avessimo ridotto un po' l'irrigazione, magari saltando un'irrigazione durante la fase vegetativa, avremmo potuto migliorare la digeribilità delle fibre. Tuttavia quello che non ho capito è che saltando un'irrigazione con il pivot rotante la pianta non avrebbe più potuto recuperare il fabbisogno irriguo. Con l'irrigazione a scorrimento magari potrebbe essere fattibile ridurre l'acqua in un primo momento e poi darle più acqua successivamente, ma ho imparato la lezione nel modo più duro, non dare consigli sull'irrigazione. Qual è negli Stati Uniti il sistema di irrigazione più utilizzato? Sicuramente il pivot rotante rappresenta il 99% dei sistemi irrigui. Allora un'altra domanda per rimanere all'interno della coltivazione del mais, alla luce di questo cambiamento che c'è in atto di far bisogno degli animali, del clima etc., quali sono? Corteva sta mettendo a disposizione delle nuove cultivar di mais, ci sono delle novità nella pianta del mais magari di cui ci può dare delle anticipazioni perché i piani culturali in Italia si stanno facendo in questi giorni. Stiamo per lanciare una nuova piattaforma genetica chiamata M3 che significa milk, meat, metane, ovvero più latte, più carne, più metano, metano non dalla vacca ma dal digestore. L'obiettivo è sviluppare genetiche con eccellente sanità nella tarda stagione, con piante che rimangano sane e continuino a fotosintetizzare. La foglia bandiera è la più importante per la fotosintesi. Vogliamo ottimizzare la resa dell'amido che è il motivo per cui il silo mais è così popolare. Otteniamo tutto questo amido e una digeribilità della fibra molto alta e costante. L'unico modo per avere una digeribilità della fibra alta con molto amido è avere una pianta molto sana. Stiamo anche esplorando nuovi modi per migliorare la salute delle piante come attraverso soluzioni di origine biologica, i cosiddetti biologicals. Recentemente siamo entrati in questo mercato per cercare di migliorare la salute delle piante. È davvero un momento emozionante per cercare di offrire un prodotto migliore alle vacche. Un'altra domanda, poi vorrei chiederti qualcosa sulla soia dopo. C'è una questione che stiamo tutti chiedendo. Quante volte modificare le razioni all'interno delle stalle di bovine da latte? Con quale frequenza? E quanto è importante farlo analizzando con molta precisione e con molta completezza gli alimenti zootecnici? Perché in Italia come negli Stati Uniti utilizziamo tutti il CNCPS come metodo di fare i razionamenti nelle bovine da latte. Il CNCPS richiede accuratezza e quindi se no non ha capacità previsionali e questo è legato alle analisi. Con quale frequenza tu ci consigli di controllare le razioni e fare le analisi degli alimenti? Domanda difficile Dipende 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 da cosa c'è nella dieta Se abbiamo molta più medica da quattro o cinque sfalci ci sarà molta variabilità in Se abbiamo più silomice nella dieta e magari prodotto con solo uno o due ibridi e i tipi di suolo sono simili, quel foraggio sarà probabilmente più omogeneo. Dipende dal controllo qualità dell'azienda che ci fornisce i concentrati da quanto sono omogenei. Il dottor Bill Weiss dell'Ohio State University ha fatto un ottimo lavoro nel determinare quanto spesso dovremmo campionare i foraggi. Penso che sia importante campionare l'umidità molto spesso perché può cambiare nei foraggi. Ma se il foraggio è abbastanza omogeneo e l'assunzione è costante, forse un campionamento mensile può essere adeguato. Tuttavia, a seconda dei costi, penso che sia meglio fare analisi rapide con il NIR molto frequentemente per monitorare la stabilità dei parametri e, se vedo un problema, potrei voler spendere di più per analisi in chimica umida. Dipende dagli ingredienti, dal modo in cui le colture sono gestite e da tutto il resto. Non è una domanda facile. Dobbiamo essere attenti oggi a quanto sono affidabili alcuni laboratori per le loro calibrazioni NIR. Chiunque può acquistare un NIR oggi. Ma quanto sono robuste quelle calibrazioni? Conosciamo aziende che acquistano i propri NIR portatili per monitorare l'umidità e sono abbastanza precisi piuttosto che utilizzare un essiccatoio. Tuttavia, molti di questi strumenti non hanno profondità analitica per andare oltre la fibra e la proteina. Certamente sono inadatti per la digeribilità. Il NIR è uno strumento eccellente, lo usiamo molto, ci crediamo molto, ma spendiamo molto tempo e denaro con molti campioni per ottenere una calibrazione affidabile. Spero che questo risponda alla tua domanda, diciamo, che dipende. Un componente importante delle diete, dei ruminanti, dei bovini da latte, ma anche da carne, è la soia. Perché molti di noi ritengono sia un alimento non sostituibile, soprattutto per produzioni elevate, per alte performance. Ormai tu ben sai che ci stiamo spostando tutti sul bilanciamento degli amminoacidi, più che sulla proteina grezza. E la soia sicuramente è fondamentale. A livello di selezione genetica, di evoluzione, ci sono delle novità sulla soia. Noi in Italia dovremmo sicuramente aumentare la superficie coltivata a soia, per una serie di motivi complicati da dire, non solo economici. Ci sono delle novità sulla soia, su nuove ibridi, nuove cultivar. Quando si tratta di proteina, prima di parlare della soia, quello che dobbiamo cercare di fare è rendere la vacca il più autosufficiente possibile nella produzione delle proteine microbiche. Più foraggi di alta qualità possiamo dare alla mucca, più i batteri ruminali cresceranno e più biomassa microbica ruminale spingeremo verso l'intestino. Studi della Cornell University hanno dimostrato che con diete a base di foraggi di alta qualità possiamo aiutare a raggiungere ottimi livelli di proteine nelle razioni di vacche ad alta produzione, intorno al 15-17% di proteine nel totale miscelata, TMR. Quindi il punto di partenza sono i foraggi di alta qualità, poi possiamo aggiungere specifici aminoacidi. Ieri ero in un'azienda che aggiungeva aminoacidi sintetici alla dieta, quindi molto concentrata. La soia ci fornisce una fonte di proteine molto efficiente e possiamo manipolare le proteine bypass o le proteine non degradate nell'intestino. In base a come trattiamo i semi, la possiamo tostare, ad esempio. Ho avuto esperienza in passato, possiamo usare con successo in razione della soia come quella che producete in Italia, ma forse solo fino a 2 kg. Pioneer ha sviluppato una soia ad alto contenuto di acido oleico. La soia è chiamata Planish. Quello che ha di unico è il profilo dell'olio. È stata sviluppata per l'industria alimentare perché l'olio si rancidisce meno nel tempo durante la frittura o nella trasformazione alimentari. Un professore dell'Università del Wisconsin, il dottor Lou Armentano, ha iniziato a pensare se potessimo alimentare le vacche con questa soia unica. Da allora ci sono stati studi alla Pennsylvania State University e alla Michigan State University. È molto eccitante per noi. Io non mi sono mai preoccupato della soia. Ho sempre amato il mais. E ora ho imparato ad amare anche la soia Planish e ne parlo sempre. Possiamo alimentare le vacche con livelli molto alti di questa soia senza interferire con il contenuto di grasso del latte. La soia tradizionale contiene acido linoleico, come il germe del mais. Troppo acido linoleico può deprimere il contenuto di grasso del latte. Quello che c'è di unico nella soia Planish è che ha poco acido linoleico, ma quasi esclusivamente acido oleico. Quindi possiamo includerne molto di più senza problemi. Molti agricoltori stanno installando i propri tostatori in azienda. Abbiamo fatto un sondaggio nello Stato di New York. Trenta stalle hanno ridotto significativamente i costi della dieta, eliminando l'acquisto di grassi commerciali e riducendo l'uso di grasso di palma, che è molto costoso, ottenendo spesso un aumento del contenuto di grasso del latte. È una tecnologia molto eccitante. Solo per darvi un'idea di quanto stia crescendo e perché tutto ad un tratto sto parlando solo di soia. Cinque anni fa nello Stato di New York vendevamo 5.000 dosi di seme di soia. L'anno scorso 116.000 dosi. Una crescita fenomenale che non dipende dagli usi alimentari, perché a New York ci sono tantissimi allevamenti che hanno iniziato a darla direttamente alle vacche. E l'altro vantaggio è che quando quell'olio fornisce tanta energia all'animale, ma non causerà acidosi perché non sarà digerito nell'intestino. Fantastico! Bill, ancora sulla soia. Ma queste soie ad alto contenuto di acido oleico saranno disponibili anche per l'Europa? Sfortunatamente no, per ora, perché è una soia OGM. Ma voglio anche aggiungere che siamo in grado di includere la soia convenzionale, cosa che potete fare anche voi oggi a 2,2,5 kg. Questo fornisce olio ed energia alla dieta. Con la soia OGM alto oleico possiamo arrivare a circa 4 kg di soia arrostita. Quindi abbiamo raddoppiato il suo impiego nella dieta. A conclusione di questa nostra conversazione, di questa nostra interessante chiacchierata, negli anni, diciamo nei 40 anni della mia attività professionale, ho sempre visto il laboratorio di Pioneer Italia come un punto di riferimento, sia per quanto riguarda il numero di nutrienti analizzabili, ma anche la formazione che voi avete fatto sul territorio, di come si prelevano i campioni, di come si commentano, ma anche di quello che è un'attività di benchmark, quindi di confronto fra il nutriente dell'analisi che sto guardando con quella che può essere la frequenza nella serie di analisi che vengono fatte. In particolare questo ha avuto un valore e ha un valore per quanto riguarda la valutazione della qualità degli insilati, la qualità dei fieni, dei foraggi secchi, i profili fermentativi di questi e altre cose che so che voi siete in cantiere a sviluppare in questo progetto Agrolab che ho sentito appunto dai vostri tecnici in Italia che subirà un'ulteriore implementazione, anche a livello mondiale. È corretto questo? Prima di tutto i nostri laboratori ci aiutano a caratterizzare i nostri prodotti, esaminando il profilo nutrizionale degli ibridi e la loro resistenza alle micotossine. Questa è la prima cosa importante che i nostri laboratori fanno. Forniamo anche servizi per valutare la qualità del foraggio verde, la qualità della fermentazione dei silomais e il contenuto di micotossine. Non bilanciamo le diete e non cerchiamo di sostituire il nutrizionista o il suo laboratorio. Il nutrizionista dovrebbe usare il laboratorio con cui si sente a suo agio per bilanciare le diete. Noi forniamo informazioni che definiscono i nostri prodotti e aiutano a mostrare al nutrizionista la qualità del foraggio che cerchiamo di fornire alle aziende agricole. Ho visitato laboratori in tutto il mondo ma penso che il Corteva Agar Lab di Cremona sia incredibile. Abbiamo recentemente aggiunto un laboratorio microbiologico per esaminare la biosicurezza dei nostri foraggi quantificando lieviti e muffe per aiutare i nutrizionisti. Quando c'è un problema nella razione possiamo fornire molto più specifici adesso. Abbiamo investito molti fondi per un ACPLC con spettrometro di massa per analizzare le micotossine. Lo usiamo per valutare la resistenza dei nostri ibridi ma possiamo fornire queste informazioni aggiuntive alle aziende con cui lavoriamo. stiamo cercando di offrire un servizio aggiuntivo. Abbiamo molto rispetto nelle capacità del nostro laboratorio e delle persone che lo gestiscono. Corteva sta espandendo l'esperienza che avete sviluppato in Italia, anche in altri paesi ad esempio in Spagna e Serbia per servire meglio i nostri clienti in quei mercati. Ok, possiamo chiudere qui? Ok, grazie. Thank you. It's an honor.